Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Categoria Fast Growing, Top 10 imprese, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership Fast Growing. B2B Trade. Eccolo qui. Per la capacità di migliorare continuamente in tutte le attività svolte avendo come obiettivo la sostenibilità della propria crescita per l'ambizione di diventare sempre più competitive ed efficaci, soddisfacendo le esigenze dei clienti attraverso soluzioni personalizzate. La promozione di un dialogo aperto e trasparente, la valorizzazione delle risorse fanno di queste aziende e degli attori di primario interesse nel panorama imprenditoriale italiano. Siamo in compagnia di Domenico Rigattieri, CEO di B2B Griffati. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, B2B Griffati si è aggiudicata in Le Fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership Fast Growing. Come commenta questa vittoria? Beh, sicuramente sono molto onorato di ricevere questo importante premio in questa prestigiosa sede della Borsa italiana, a fianco di eccellenze Made in Italy come la nostra e sicuramente intendo ringraziare i miei collaboratori per questo importante traguardo che abbiamo raggiunto insieme con questo premio. Grazie. Ecco, il vostro è il principale marketplace B2B in Europa nella distribuzione online di articoli di abbigliamento e accessori outlet firmati mediante la vostra piattaforma web. Qual è stato l'approccio che vi ha consentito di raggiungere questo importante traguardo? Beh, questo importante traguardo e questa accelerazione è sicuramente il frutto di alcune azioni migliorative che si sono susseguite nel corso di questi ultimi due anni. Siamo riusciti ad ampliare l'offerta, siamo passati da un catalogo di 5.000 prodotti a 20.000 prodotti di marchi firmati e questo sarà possibile grazie alla fiducia dei nostri distributori partner che sono appunto dei magazzini italiani accreditati che hanno creduto nel nostro modello di business che secondo me è un modello di business vincente e scalabile. Dico vincente perché offre la possibilità ai nostri distributori di poter proporre i loro prodotti sulla nostra piattaforma web e questo consente loro di poter accedere al mercato globale perché la nostra società opera a livello internazionale, ha un desk multilingua. Poi comunque siamo riusciti anche mediante l'applicazione di alcuni algoritmi di data manipulation a tradurre il catalogo in circa 24 lingue e questo sicuramente ha portato dei benefici in termini diciamo di prodotto e che il nostro cliente retailer trova sicuramente appetibile in quanto riesce proprio ad accedere alla scheda ai contenuti del prodotto nella propria lingua appunto nativa. Quindi questo modello secondo me è un modello vincente perché dall'altra parte il nostro partner non sostiene alcun costo legato all'information technology. oggi sappiamo quanto è critico, quanto è dolente l'aspetto degli investimenti in information technology sull'e-commerce. Infatti noi su questo campo qua siamo esperti e appunto questo modello di business ha consentito anche noi nell'ottica sempre del modello win to win di non realizzare un magazzino fisico ma di sincronizzare tutti gli stock dei nostri partner in near real time e seguire proprio tutto il processo di vendita dal ritiro del prodotto fino alla consegna finale presso appunto il nostro cliente retailer. è un business secondo secondo me scalabile perché in qualsiasi momento possiamo aggiungere nuovi partner sulla piattaforma infatti siamo partiti che avevamo circa 7 mila prodotti, oggi abbiamo 20 mila prodotti parliamo di un magazzino che ha un valore di circa 7 milioni di euro di asset per noi è una cifra stratosferica, cioè impensabile realizzarlo e questo sicuramente ci ha consentito di massimizzare i profitti anche se i margini sono piuttosto bassi perché lavoriamo sui volumi e questo business model ci ha consentito poi di concentrarci sulla tecnologia quindi di investire sulla tecnologia e di investire sul service desk che appunto abbiamo anche in 5 lingue quindi riusciamo a interloquire con i nostri clienti nelle principali lingue inglese, francese, spagnolo, rumeno, italiano e il nostro diciamo mercato domestico è proprio l'Europa quindi stiamo puntando tantissimo, fin dall'inizio abbiamo sempre puntato sull'Europa abbiamo fatturato che va sul 40% Italia, 60% estero e in più sicuramente un'altra azione che ha determinato questa rapida scesa e questo importante posizionamento a livello internazionale e lo dobbiamo anche al servizio dropshipping che abbiamo implementato che consente a un cliente retailer online, quindi un classico negozio online di poter accedere al nostro catalogo di prodotti che ripeto comunque è su circa 20.000 prodotti mediante dei moduli plug and play quindi che sono semplicissimi da installare sulle piattaforme più usate oggi a livello di e-commerce quindi di e-commerce, Presta, Shopify, una di quelle piattaforme su cui stiamo lavorando tantissimo e questo consente appunto anche a una persona che non ha particolari competenze tecniche di poter integrare i nostri prodotti in maniera automatica sul proprio sito web e di appunto inviare gli ordini sempre in automatico sulla nostra piattaforma Bene, quali sono i vostri progetti per il futuro? Beh, noi siamo un'azienda giovane diciamo, tra l'altro sono il più vecchio a 39 anni quindi abbiamo tante energie, tante idee siamo proprio una start-up tra gli obiettivi sicuramente che ci siamo prefissi per quest'anno è quello di riuscire a prodare sul mercato americano e qui insomma stiamo cercando sicuramente dei partner che possano comunque supportarci sia sull'aspetto logistico sia sull'aspetto diciamo anche legale, finanziario perché comunque ci rendiamo conto che il mercato americano non è sicuramente il mercato europeo perché parliamo di una travaluta, parliamo di dogane, di dazzi quindi sicuramente non abbiamo ancora tutto il know-how e la visione completa però comunque ci arriveremo ci piacerebbe accelerare per cui qualora insomma riuscissimo ad avere un intervento esterno sicuramente lo possiamo valutare anche perché negli Stati Uniti il servizio dropshipping è un servizio abbastanza ormai in voga e ritengo che ci siano dei potenziali incredibili visto che insomma sicuramente il bacino di utenza è molto più ampio rispetto a quello europeo quindi questi sono sicuramente i nostri prossimi obiettivi però sicuramente non ci riserviamo di studiare e implementare sempre nuove tecnologie per riuscire a dedicare un servizio e una user experience sulla nostra plateforma web che offre appunto delle grandi opportunità sia per i nostri partner di magazzino sia per i nostri clienti finali grazie a tutti grazie a tutti